Noi non cederemo, quest'opera non gliela lasceremo fare e dopo 25 anni se qualcuno si illude che noi non vogliamo più vincere, vinceremo noi comunque, perché quest'opera non riusciranno mai a farla. La fiaccolata di stasera è la prima delle iniziative della due giorni di Notav che abbiamo organizzato in ricordo dell'8 dicembre 2005, ovvero la liberazione di Venaus, ma soprattutto per l'insolidarietà e compagni e compagni che sono ancora in carcere e che a breve avranno le sentenze tra dicembre e gennaio per i 53. E' una grande serata di quelle della Val Susa, una serata fatta con il cuore, ci sono migliaia di persone in piazza a dimenticare ogni parte della nostra lotta e soprattutto a rilanciare stasera lo slogan della serata è che si torna e si riparte insieme, questo è, credo, il mio slogan Notav degli ultimi anni in un momento del genere. Via gli spiri dalla Val Susa! Grazie a tutti!